Un cordiale saluto da Luigi Percciaroli e Maurizia Gregori per le notizie di Radio Belluto. È stata trovata in casa morta, riversa a terra, una tragica scoperta, quella fatta a martedì in un'abitazione a Montignano. La vittima è una donna di 60 anni che lavorava presso un'azienda agricola di famiglia. A trovare il corpo senza vita è stato il figlio. Secondo l'ispezione cadaverica, la donna sarebbe morta diverso tempo prima e la causa del decesso sarebbe di natura accidentale. Il corpo presentava una piccola ferita al viso e aveva una perdita di sangue. È possibile che la donna, che da tempo aveva problemi di deambulazione, sia caduta battendo la testa. Incidente è martedì mattina lungo la strada provinciale arceviese a Serra dei Conti. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 7.30 al chilometro 24 a caso di uno scontro tra due vetture, una Fiat Panda e una Ford Focus. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri giunti sul posto, uno dei mezzi usciva da un distributore e si è immesso in direzione Senigallia, probabilmente senza accorgersi dell'arrivo dell'altra auto che procedeva sempre verso Senigallia. La Ford ha provato a schivare la Panda senza riuscirci e ha finito la sua corsa contro un albero alato della carreggiata che è stato sradicato nell'impatto. Illeso il conducente della Panda, un cinquantenne residente nella zona. Ferito invece l'uomo alla guida della Ford, un uomo di 30 anni, sempre della zona, che è stato portato al pronto soccorso. Si intitola Global Teaching Labs, l'importante progetto che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology di Boston, svilupperà nel 2018-2019 con la presenza in più segmenti temporali di docenti e ricercatori all'interno di alcuni licei italiani impiegati in attività di ricerca, docenza e sviluppo delle competenze. Per le sue peculiarità e i numerosi riconoscimenti, il Ministero dell'Istruzione ha individuato nel liceo scientifico Medi di Senigallia la scuola capofila a livello nazionale, un grande lustro per il liceo senigalliese che vede riconosciuta la costante ricerca di innovazione metodologica nella didattica. La lanterna azzura di Corinaldo, locale particolarmente in voga a questo periodo, tra i giovanissimi e nel cui parcheggio è stato fermato un sedicenne con la droga, è in prima fila nella lotta all'uso dei stupefacenti. Come accade sempre, i locali maggiormente frequentati da ragazzi attirano anche spacciatori. Nel caso del ragazzino beccato a Corinaldo, determinante è stato l'intervento del personale della discoteca che, come ha precisato la direzione, ha allertato i carabinieri. Prorogata fino al 28 gennaio al Museo Nori De Nobili, la mostra Artiste allo specchio, autoritratti fotografici. Dato il grande successo di pubblico, la mostra Autoritratti fotografici, artiste allo specchio a cura di Giorgio Bonomi, Carlo Emanuele Bugatti e Simona Zava sarà prorogata al Museo di Tre Castelli fino a domenica 28 gennaio. Ospitata nella Sala del Centro Studi sulla Donna nelle arti visive contemporanee, la mostra è un'occasione imperdibile per apprezzare gli autoscatti di 27 donne artiste di cui la maggior parte appartenenti al territorio marchigiano, affiancate da alcune provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Con le notizie è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione.